Sono Francesco De Marco, direttore commerciale di Lago Group, che è un'azienda che ha più di 50 anni di storia, ha due stabilimenti nel Veneto e siamo specializzati nella produzione di prodotti rocciari, tra i quali i vaferi, i biscotti e le merendine. Abbiamo deciso di partecipare all'evento del Giro d'Italia come fornitore ufficiali, quando ci è stato proposto abbiamo ritenuto un'ottima opportunità per abbinare i prodotti come le nostre merendine, che sono sane, energetiche e sono soprattutto un ottimo abbinamento per chi fa sport e lo riteniamo un ottimo veicolo per portare avanti il nostro brand e la nostra strategia commerciale. Grazie a tutti! Grazie a tutti!